Oggi facciamo un'operazione verità, rendiamo pubblici i siti dove verrebbero realizzate le centrali nucleari che Calenda e Salvini propongono e che non hanno il coraggio di dire. Questo programma costerà oltre 280 miliardi di euro, un costo incredibile e non dicono chi metterà i soldi. Noi invece vogliamo un piano energetico basato sulle rinnovabili perché hanno la funzione di abbassare il costo dell'energia ed è quello che vogliono le imprese e le famiglie italiane. Ci mostriamo subito quindi dove sono le localizzazioni di queste centrali che Calenda, Salvini, Berlusconi, Meloni non hanno il coraggio di dire agli italiani perché li stanno prendendo in giro. Oggi noi facciamo l'operazione verità. Sono 15 siti, come vedete distribuiti tra sud e nord perché sono una parte i vecchi siti provenienti dal vecchio programma delle centrali nucleari italiane e altri sono nuovi, ovviamente come in Sicilia, in Sardegna o come Monfalcone, Chioggia, San Benedetto del Tronto, Termoli, Brindisi, l'area industriale di Brindisi, Palma di Montechiaro, Oristano, Borgo Sabotino, Carigliano. Ecco, noi lo diciamo agli italiani. Se oggi Calenda, Salvini dicono che questa mappa per loro non è corretta, allora dicono loro agli italiani dove vogliono fare le centrali nucleari. Non si può scherzare sulla questione energetica. E' all'altro punto che oggi noi diciamo agli italiani a quanto costano le centrali nucleari che in particolar modo Calenda vuole realizzare, 40 gigawatt di energia nucleare. Ebbene, voi dovete sapere che a Flammaville, in Francia, Occhi Vuoto, in Finlandia, in Clean Point, in Inghilterra, nonostante ancora siano in corso i lavori, dal 2007 a Flammaville sono in corso i lavori e ancora non sono terminati. Il costo è partito da 3,7 miliardi, è arrivato a 19 miliardi di euro. Il costo a gigawatt, la parte più bassa oggi, è tra i 7 e 10 miliardi di euro a gigawatt di energia nucleare. Ebbene, i 40 gigawatt di Calenda costano tra i 280 miliardi di euro e i 400 miliardi. Caro Carlo Calenda, visto che fai, come si dice a Roma, il saputello, lo dico con grande rispetto, ci dici chi metterà questi soldi? Per noi il futuro sta nelle energie rinnovabili, come sta facendo la stessa Germania, che ha programmato un piano energetico da 80% rinnovabili entro il 2030 dal fabbisogno elettrico. In sintesi, questi sono i siti, questi sono i costi che vi abbiamo detto, questa è l'operazione Verità che facciamo oggi. Oggi Salvini e Calenda sono chiamati a dire la verità agli italiani. Basta sciocchezze, basta prendere in giro gli italiani. Noi vogliamo che l'energia sia pagata a basso costo e nello stesso tempo sia data una risposta alla crisi climatica.